Io credo che sia giusto utilizzare a favore dell'Ucraina gli extra profitti. Abbiamo chiesto a Borrell di presentare un testo con una solida base giuridica affinché non possano esserci dubbi e credo che ci sia la base giuridica per quanto riguarda gli extra profitti. Credo che sia giusto destinarli anche alla parte del sostegno per l'acquisto di munizioni per esempio e per la ricostruzione. L'importante è che si usino a favore dell'Ucraina.